Arriva Insure Your Success, progetto di AXA con Junior Achievement. Coinvolti i dipendenti volontari di AXA in Italia, in aula per mettere a disposizione degli studenti la loro competenza su temi finanziari. Dottor Versari, cosa ha la spinta a calarsi nel ruolo di docente in questa iniziativa? A me interessa, a me piace moltissimo stare con i ragazzi e mi sono reso anche conto che quando devi parlare con i ragazzi devi essere veramente chiaro e per essere chiaro devi capire quello che sai e questo lavoro mi ha obbligato a vedere se capivo davvero, se sapevo davvero le cose che ritengo di sapere o che ritenevo di sapere e quindi mi ha aiutato in realtà a recuperare i fondamenti del mio mestiere per poterli spiegare ai ragazzi. Cosa l'ha colpita di più di questa esperienza? Sicuramente i ragazzi, mi hanno colpito tantissimo l'accoglienza ma anche poi soprattutto la interattività e la prontezza di spirito. Ma poi mi è piaciuto il fatto che l'approccio tra il rapporto tra scuola e il mondo del lavoro fosse vissuto in maniera differente. Quindi la scuola non è il serbatoio di futuri lavoratori e basta ma è un ambiente che può essere fecondato dall'esperienza di chi lavora e c'è proprio questa circolarità di sapere che mi ha molto colpito e potrebbe essere veramente un modello anche per la formazione futura. Com'è stata l'interazione con gli studenti? Beh, è veramente ottima. Non avevo dubbi ma sono rimasto sorpreso e affascinato. L'utilizzo dell'intelligenza quale viene appreso nella scuola secondo me è una ricchezza umana tale che quando la vedi poi così che si dispiega resti proprio toccato. I temi centrali su cui si è voluto concentrare? A me è sembrato importante parlare anche di strumenti buoni per la vita futura delle persone. Prendere in mano la gestione del proprio budget per esempio secondo me è un tema di maturità umana fondamentale di cui non si parla per cui il denaro resta questo sconosciuto, questo idolo, questa cosa che ci sfugge di mano e invece è possibile con l'intelligenza utilizzando il budget, il risparmio eccetera eccetera farne un uso intelligente e mirato. Penso che questo non venga passato così facilmente e così spesso nelle scuole. Quale ritiene sia il valore di questa iniziativa per il sistema scolastico? Penso che sia un'iniziativa molto importante per gli studenti, non solo per gli studenti che studiano appunto nell'istituto tecnico finanze e marketing ma sia applicabile a tutti gli indirizzi, ai licei, agli altri istituti tecnici proprio per il valore formativo di questa iniziativa. Credo che la cosa principale sia che loro capiscono che quanto viene insegnato a scuola e studiato poi a casa c'entri con la realtà, c'entri con la loro vita, di ragazzi adesso e di adulti un domani e di padre di famiglia un dopodomani. Quindi che quello che si fa qui non è perduto ma si confronterà poi ogni giorno che passa. Cosa ti resterà di questa lezione? Sicuramente un aiuto per uscire dalle aule scolastiche, un investimento dei propri soldi anche piccoli investimenti magari in un futuro lavorativo o familiare insomma. Pensi che momenti come questo di incontro tra la scuola e il privato siano utili? Sì perché appunto ti formano e quando esci dalla scuola puoi avere una visione più ampia e sapere a cosa andrà incontro.